Le regionali sono delle elezioni di medio termine che disegneranno sicuramente degli scenari politici nuovi. La prima cosa è che io non mi candido, in modo tale da sgomberare il campo ad equivoci. Non mi candido perché ho altri progetti per la mia vita professionale e politica e voglio fare bene il sindaco, voglio far uscire la città dal dissesso, voglio ricandidarmi al sindaco, non voglio fare il letto per qualcun altro, visto che la stiamo risanando la città. Voglio prendermi le mie responsabilità giornalmente con i miei concittadini, incontrarli tutti i giorni per strada e soprattutto voglio stare in trincea. Non ho nessuna intenzione di candidarmi al regionale, anche perché ci sono tanti amici del mio consiglio comunale che si vogliono candidare. Ed è chiaro che qui, come dire, casca l'asino perché c'è un po' di legittima tensione perché a livello nazionale le alleanze si devono definire, soprattutto con il nuovo centro-destra, con l'UDC e quindi queste questioni poi hanno effetto sul livello locale. Io mi auguro che le regionali però siano sui temi, ci sono 3-4 questioni importanti, con la quali la sanità e i rifiuti. La regione è un'entità importante, ma bisogna discutere anche del rapporto con i comuni, tra comuni e province che si stanno azzerando, in modo a mio modo di vedere sbagliato. Quindi le tematiche partitiche sono sicuramente fondamentali, ma credo che siano soprattutto importanti le tematiche politiche, quelle che riguardano le nostre polis. Spero, auspico, lavoriamo per questo, che il quadro politico si chiarifichi velocemente, anche perché se il quadro politico si chiarisce velocemente, si comprende chi sta da una parte e chi sta da un'altra e quindi si può fare una battaglia partitica e quindi politica sui temi, che è la cosa più importante.